L'unico apparentamento ufficiale a Chieti lo ha siglato Diego Ferrara. Il patto con Paolo De Cesare porta in dote al candidato di centrosinistra il 12,61% della coalizione civica esordiente in queste elezioni comunali. De Cesare sarà vice sindaco di una eventuale giunta Ferrara, con in più per il suo gruppo la delega alla cultura. Di scontinuità e rinnovamento. Questa discontinuità con il passato la può assicurare solo il dottor Ferrara, che è un galantuomo, una persona per bene, una persona che davvero accuore le sorti della città di Chieti e non lo fa per interessi come qualcun altro di rilanciare la propria carriera politica. Ferrara potrà contare anche sull'appoggio dei Cinque Stelle di Amicone e continua a dialogare con l'altro candidato civico, Bruno Di Orio, lasciando porta aperta ad un accordo politico. Non è stato possibile fare l'apparentamento prevalentemente e essenzialmente per la disomogeneità della coalizione, ma non lasciamo ovviamente la porta aperta a tutte le convergenze. Nel campo opposto, quello del centrodestra, l'accordo politico con Febbo e la lista di Forza Chieti è cosa fatta con l'assessore regionale, che dopo essere riuscito a costruire una forza civica quarto partito in città, è pronto a tornare nella sua collocazione naturale. Una decisione che spacca l'alleanza di Di Orio e potrebbe dare il via ad accordi trasversali delle liste che la compongono, animate da ispirazioni politiche differenti. E' evidentemente che Mauro Febbo rappresenta un interlocutore importante, sia per i numeri dimostrati, sia perché la collocazione naturale di quella lista è il centrodestra. Ma non ci fermiamo a quello, noi stiamo cercando di parlare alla città. Infatti noi già da sabato siamo ripartiti per i quartieri, stiamo facendo incontri su tutti i quartieri, perché il vero apparentamento, io lo voglio con la città. Intanto i toni della campagna elettorale si alzano, botta e risposta proprio sugli apparentamenti. Per Di Stefano il manovratore dell'accordo di Cesare Ferrara sarebbe il senatore PD D'Alfonso pronto a mettere l'ipoteca sulla città. Ma soprattutto penso, e questo Chiedi lo ha capito, a chi sta dietro tutta questa operazione, cioè sempre la stessa persona, Luciano D'Alfonso, che ha il pallino fisso di dover monopolizzare Chiedi per renderla subalterna alla sua pescara. Non ci riuscirà, anche questa volta purtroppo per lui, per fortuna per Chiedi, saranno puniti. La replica stizzita di Ferrara non tarda ad arrivare. Il candidato di centrosinistra si dice pronto anche ad adire le vie legali contro Di Stefano. Luciano D'Alfonso io neanche lo conosco. Allora, se il senatore Di Stefano ha una registrazione telefonica, una foto, una registrazione televisiva in cui mi ha visto andare a prendere anche solo un caffè d'Alfonso, me lo dica, altrimenti, se continua su questi termini, vaglierò anche le vie legali. Ciao!